ciao a tutti vediamo un attimo se la caricatura di raffaella pico mi viene bene cominciamo dai capelli questa showgirl ha una chioma immensa di capelli ci vuole tanto pennarello nero ciocca per ciocca una bellissima ragazza vediamo la sua caricatura che rende ci saranno tanti altri personaggi mi raccomando seguitemi tutti i personaggi famosi attori cantanti comici e da un po che non disegno i cartoni animati ma prima o poi comincerò a fare anche quelli ricci 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 ogni riccio un capriccio ragazze che ci dicono sempre devi stare calmo ma la calma è apparente si vede si sente ecco qua piano piano i bordi sono ripetati il ciuppone questo immenso ciuppone faccio Mentre il disegno fraffa e l'affitto, sto già pensando al prossimo disegno. Ci sono un'immensità di persone, personaggi famosi da poter fare. Spero che siano di vostro gradimento a tutti i miei personaggi. Intanto ringrazio tutti coloro che seguono il mio canale. Grazie anche dei complimenti, dei commenti che vi fate. Questo mi invoglia di giugnare sempre di più. Mamma mia, quando si caveri di questa ragazza, incredibile. Sulle spalle. Sì, penso che il prossimo personaggio sarà un personaggio maschile. Così facciamo un po' e un po' e un po' e un po'. Qualche altro personaggio famoso, sto pensando. Se volete darmi qualche consiglio, benvenuto. Adesso trucchiamo la Raffaella Fico, facciamo il sopracciglio. Ecco l'altro sopracciglio. L'occhietto. L'occhietto. Ok, facciamo l'altro occhietto. Facciamo dal contorno occhi. Ok, vai troppo in corno. Sì, via. Penso che... Sì, dai. Super Giù ricorda molto la Raffaella Fico. Sono abbastanza contenta di questo disegno, come sta venendo. Vediamo una volta colorato come viene. Però assomiglia, dai. Ecco qua. Ciao ragazzi, ci vediamo con la seconda parte del disegno. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai. Sì, dai.